Quando è così sincero Non capita mai niente per caso Non lascia dubbi Abbiamo a che fare con una complice Solo certezze Salga in auto Quasi Conosce il signor Miller? È una spia Dobbiamo restare insieme per vedere la nostra situazione Non ti consiglio di andare a casa? Ma la vita con te è così citata Cameron Diaz, Tom Cruise Ma lo sai che sei forte? Innocenti bugie In Prima TV Canale 5, giovedì alle 21.10